Qua stiamo parlando con tantissime persone, quindi il discorso lo continuiamo a ripetere dappertutto, poi lo facciamo ripetere su a Mirafiori, lo facciamo su a Melfi, a Cassino, lo facciamo a Pomignano, la realtà è un'altra. Dove ci siamo trovati è, qua posso fare questo investimento, a queste condizioni. L'incontro è andato in questo modo, la FIAT ha presentato il testo, per tre ore i sindacati hanno spiegato tutti cosa non andava bene, cosa c'era da cambiare, dopo tre ore che ci ascoltava la FIAT ha detto forse non avete capito, o mi dite di sì o io non me ne vado. Le questioni sindacali riguardano immediatamente le parti, ma hanno ripercussioni sulla vita della collettività in generale, quindi assumono un valore politico. Grazie a tutti.